Con la vecchia Monte Bianco, a partenza da Pallu arrivare a Puntelbronner, ci si metteva all'incirca sui 40 minuti. Adesso con la Skyway ne possiamo mettere 10 e siamo a 3.015 minuti. Ho iniziato a lavorare a Puntelbronner nel maggio del 1971, avevo 15 anni ed ero lì all'osciestivo al deposito dell'osciestivo. Il mio lavoro oggi qui a Skyway Montibianco si basa soprattutto sulla sicurezza e andare a vedere i parametri e poi fare soccorso. Ho iniziato a lavorare qui perché volevo venire a Puntelbronner, ho iniziato a lavorare qui, a lavorare qua, per iniziare ad andare anche in montagna, a essere in quota per avere la passione tramandatemi dai nonni. Quindi sono andato a lavorare a 3.500 metri. La funivia del Monte Bianco è stata costruita negli anni 30, soprattutto per un'esigenza primaria che era quella militare e poi è diventata anche pubblica e soprattutto l'hanno tutti gli alpinisti. La funivia arrivava solo fino al rifugio Torino, poi negli anni 50 è stata costruita anche Puntelbronner. La grossa differenza che c'è è soprattutto la capienza e la portata delle persone perché prima potremmo portare 800.000 persone con delle lunghissime code e rare le giornate. Adesso ne portiamo 3.000, 3.200 in un giorno senza altro piccoli. È incredibile qua qui. Oh, you see all the crystals! Altitude! To Spider-Man and Batman. Ha, 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 ha! It's not even a feel of high when you look at me with those eyes I get weak in the knees and I beg in you please Let it be the real thing When a house can make the fire burns by What do you do now? So come a little closer now Let's burn on through the night Cause you are my air Without you I can't believe I ain't gonna go nowhere I think I'll stay right here Cause you are my air Without you I can't believe I ain't gonna go nowhere I think I'll stay right here Nella Skyway abbiamo, beh, adesso si sta diversificando un po' le persone che vengono a usufruire del territorio. Wahooohh! It's not even a fill of high when you look at me with those eyes I can be given needs And I beg any please Let me know your thing When a horse can end The fire burns by So come a little closer now Let's burn all through the night Unlock, you're by yourself Without you, I can't believe I ain't gonna go nowhere now I think I'll stay right here So you are my air Without you, I can't believe I ain't gonna go nowhere I think I'll stay right here La Skyway ha fatto questa funivia Chiaramente sta portando un sacco di gente su Oltre che per ammirare le montagne Soprattutto il Monte Bianco Anche per avvicinare di più la gente alla montagna E questo ci fa piacere a me guide Perché c'è più gente